Il pittore udinese Carlo Ciussi ha incontrato il pubblico della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone per un approfondimento sulle sue opere attualmente esposte a Udine, presso la Casa Cavazzini dei Musei Civici e presso la Galleria Parco di Pordenone. Sono opere del 1990 e io feci a Cividale una mostra con quadri molto grandi che due erano esposti alla mostra di Udine. È stato un lavoro molto coinvolgente, questo delle curve, usando sempre un po' di trucco. L'incontro con l'artista friulano, coordinato da Marco Minuz, ha offerto la possibilità al pubblico presente di ammirare e discutere le opere d'arte provenienti da collezioni private. Oggi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare qui all'interno di Parco, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato di Pordenone, un grande artista del nostro territorio che è Carlo Ciussi. È un evento assai raro perché Carlo Ciussi spesso non si concede per questo genere di incontri e quindi oggi avremo la possibilità di parlare con lui, chiacchierare, scoprirlo anche nei suoi aspetti più intimi e delineare così tutta la sua carriera che è stata estremamente importante. Carlo Ciussi è un pittore friulano del nostro territorio, oggi ha 81 anni, è una persona estremamente importante perché nel corso della sua carriera ha attraversato diversi momenti e che lo rendono quindi una delle figure più interessanti del nostro panorama artistico. Grazie a tutti.